Musica Benvenuto a un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni, l'ospite di oggi è Mario De Bon, sindaco di Sospirolo, che salutiamo e ringraziamo per essere qui. Buonasera, buonasera a tutti. Questo chiaramente è un... arriviamo alla fine di un periodo molto complesso, quello dell'emergenza Covid, piano piano le cose si stanno sbloccando. Voi in questo periodo però non siete stati fermi, avete utilizzato il vostro personale per cercare di intervenire su alcuni punti del territorio. Ma diciamo che il periodo non è stato sicuramente facile, non lo è stato per i comuni di Sospirolo, come credo per tutti i comuni d'Italia e le persone, perché si è stato faticoso. Ecco, diciamo che questa ripartenza porta con sé anche tutto il ritardo accumulato, quindi c'è da correre. Diciamo che se dobbiamo trovare dei lati positivi, il fatto di non aver dovuto fare alcuni servizi, mi viene in mente lo scuola bus, ha liberato gli operai per poter fare una serie di lavori che ci servivano. Ad esempio noi abbiamo appena acquistato dei magazzini comunali e gli operai si sono messi all'opera per fare tutto quello che serve per poterli mettere di nuovo in pista, cioè pulire, imbiancare e quant'altro. E quindi da quel punto di vista, rispetto alla programmazione che avevamo, siamo riusciti ad andare più veloci. Anche sugli sfalci siamo riusciti quantomeno a tamponare, perché il problema Covid si è visto anche ovviamente sugli sfalci, perché nessuno poteva andare a sfalciare, non potevi dare in appalto, come facevamo ogni anno, questo servizio. E allora anche lì gli operai sono andati a tamponare, diciamo anche in maniera abbastanza sostanziosa. Per fortuna, ora anche su questo siamo riusciti a risparmiare soldi per quel che riguarda la toponomastica che è partita e la gente di Sospirola avrà visto gli operai piantare dei pali piuttosto che fare delle migliorie su pali già esistenti. Diciamo che grazie a Covid siamo riusciti a recuperare quelle ore facendo lavorare gli operai su questo settore. e fortunatamente questo ci ha portato un notevole risparmio di spesa. Io ricordo che le amministrazioni precedenti avevano quantificato in circa 80 mila euro di spesa per la nuova toponomastica, noi prevediamo di andare intorno a 30-35 mila euro e completare tutta l'opera. Quindi voglio dire bene, molto bene da questo punto di vista. Ecco, questo per il progetto che riguarda la toponomastica e i nomi delle vie perché ricordiamolo fino a poco tempo fa a Sospirolo c'erano delle località e semplicemente dei civici, giusto? Esatto, Sospirolo non ha mai avuto delle vie a parte una, due, che tra l'altro erano ben mescolate perché nella stessa via avevamo località Capoluogo e via San Lorenzo, tanto per dire. Invece è stato rifatto tutto, è stato dato a una ditta privata la valutazione punto per punto, è stato fatto il monitoraggio successivo da parte dei dipendenti comunali per vedere che tutto fosse a posto, sono stati ridistribuiti tutti i numeri e a breve, in questi giorni, cominceranno le distribuzioni dei moduli dove gli abitanti e residenti dovranno trascrivere quelle che sono le utenze, i mezzi che hanno in carico, eccetera, tutti i loro dati fondamentali perché il comune provvederà ad aggiornare sia la motorizzazione civile, sia l'ULS e ovviamente alle aziende, quelle che forniscono energia elettrica piuttosto che telefonia fissa, provvederemo noi ad aggiornare tutto quanto. Ci tengo a dire una cosa che non serve rifare carta d'identità, non serve rifare i vari documenti perché non è prevista questo passaggio, non serve assolutamente, l'aggiornamento si arrangia a farlo il comune, quando andrà a scadenza il documento si rifarà normalmente. Ecco, voi siete passati anche casa per casa durante l'emergenza Covid con la protezione civile per la distribuzione dei pacchi, cioè avete scelto di non dare i buoni spesa. Sì, diciamo che siamo passati con i volontari e io qua ringrazio tantissimo tutta la lista perché tutti si sono attivati, ognuno aveva le proprie zone, aveva le proprie famiglie e abbiamo portato dei pacchi casa per casa perché piuttosto che distribuire buoni, che poi erano comunque un buon problema gestirli, non abbiamo stampato nulla. Abbiamo direzionato tutti i soldi su dei pacchi che avevano dentro dei generi di prima necessità come lo Stato ci aveva suggerito e abbiamo distribuito questi alla popolazione. Quelle famiglie più numerose hanno ricevuto più pacchi, quelle meno numerose ne hanno ricevute meno. E con questa operazione abbiamo fatto lavorare tutti gli alimentari del nostro territorio, i quali, io devo, li cito perché è giusto, meritano di essere citati, quindi gli alimentari Arcobaleno, il Panificio Grom e la Latteria di Sospirolo, perché ci hanno fornito, diciamo così, tutti i generi ad un prezzo assolutamente contenuto. A questi poi si è aggiunto il Panificio Fante che ha addirittura regalato focacce, pane, per questi pacchi, quindi persone che si sono attivate tanto di cappello, insomma. Come dicevo c'è tanta brava gente, c'è poco da fare, basta saperla mettere in moto. È stata anche poi un'occasione per fare lavorare questi esercizi. A proposito di lavoro, nella zona delle Masiere si sta muovendo qualcosa? Diciamo che quest'anno in quella zona ci sarà un bel movimento. Come già saprete sicuramente stanno lavorando a Ponte Mars e tra l'altro la ditta sta andando come un fulmine, quindi la previsione è buona rispetto ai tempi di chiusura di quel ponte. Stiamo lavorando per cercare di portare anche tutto l'allargamento e quindi fare anche tutto l'allargamento di quella strettoia che porta fino alla zona delle Masiere. Speriamo di portarle in porto. E poi per quel che riguarda la zona Masiere stiamo parlando sia con BIM infrastrutture per il prolungamento del metano sia con una ditta del posto per allargare l'area artigianale che c'è. Quindi potenzialmente nel medio periodo, nel giro di un paio d'anni vuol dire più lavoro che arriverà su Spirolo e soprattutto valorizzare un'area che finora è sempre stata fondamentalmente una cava o da una parte o dall'altra con tutti i disservizi che poteva portarne. C'è gente che ha voglia di investire, quindi bene. A questi si aggiungono poi i soldi che arrivano attraverso il Genio Civile per gli argini che è un finanziamento cospicuo, si parla di 4 milioni di Euro e quindi con questo si rifaranno gli argini da Ponte Mas fino alla zona di Sasmus. Mi permetto di prendere 10 secondi per dire che a Sasmus hanno lavorato veramente bene in emergenza, sia il Genio Civile sia la ditta ha lavorato bene e quindi devo fare i complimenti a entrambi. Adesso con questi soldi che arriveranno spero che completino l'opera perché manca ancora qualche metro per poter completare l'argine ma devo dire che sono stati veramente operativi e l'hanno lavorato bene. L'area di Ponte Mas è diventata un po' uno dei simboli purtroppo di Vaia e molto meno la Valle del Miss che è rimasta chiusa per molto tempo e forse anche la scarsa raggiungibilità ha portato avanti meno l'immagine della Valle del Miss. La Valle del Miss però si è ripresa alla grande. Abbiamo visto anche in questi giorni molte persone frequentare il lago e poi anche i sentieri. Sì, anche lì noi continueremo nell'opera di valorizzazione. Adesso stiamo trattando per fare una manifestazione che possa valorizzare appunto la Valle. a giorni dovrebbero attivare le lampade delle gallerie e quindi rendere accessibili quelle gallerie anche per i ciclisti e per i pedoni finalmente. E poi adesso avremo un incontro con il parco per decidere come saranno gli equilibri all'interno perché io ci tengo a dire, poi è chiaro che si legge sul giornale, ci sono lamentele eccetera, però il comune non è proprietario dell'area, il proprietario è il parco e quindi è giusto che sia il parco che decide. Per il comune il parco è come se fosse un po' un privato, io non posso entrare nel territorio e decidere cosa il parco deve fare. Come sono anche convinto che vale la pena dialogare tra parco e amministrazione perché la Valle del Mese ha una ricchezza, quindi lo si vede. Io premetto che a fine stagione sono convinto che ci saranno ancora più accessi quest'anno rispetto agli anni scorsi perché le persone che una volta andavano con l'aereo dall'altra parte del mondo a fare le ferie probabilmente non lo faranno quest'anno e usufruiranno delle zone nostre. Quindi dobbiamo essere preparati a questo, altrimenti rischiamo di avere grossi problemi, soprattutto per quel che riguarda la spazzatura che a oggi è totalmente in carico al comune e il comune non ha nessun introito, noi fino all'anno scorso spendevamo mediamente intorno ai 10-12 mila Euro per tre mesi per gestire lo smaltimento dei rifiuti e quello è una cosa su cui bisogna stare molto attenti. Io rimango sempre al libito perché maleducati ce ne sono, sono persone che arrivano magari da zone dove fanno la differenziata spinta e poi quando arrivano in Valle del Missio riescono ad abbandonare tutto. Non riesco a capire del perché ci si debba ridurre a questi livelli insomma, però purtroppo succede così. Il territorio va manutentato e c'è anche l'ipotesi di uno sghiaiamento del lago. Sì, noi abbiamo la parte diciamo quella più alta dove c'è il ponte di San Remedio dove con Vaia c'è stato un notevole afflusso di ghiaglia e anche in quell'area con il genio civile ci dobbiamo appunto trovare a giorni per vedere come fare per togliere questo materiale che ovviamente in questo momento non sta mettendo in crisi la situazione, però non vorremmo mettersi in crisi quella che potrebbe essere la viabilità insomma e quindi dobbiamo trovarci a giorni per capire e forse abbiamo anche già trovato il privato che potrebbe darci una mano in questa operazione di sghiaiamento ovviamente facendolo con dei costi limitati. E nel frattempo anche vicino a un altro lago, il lago di Vedana avete portato avanti dei cantieri? Sì, lì abbiamo quasi completato, ci manca solo l'asfaltatura, siamo riusciti a mettere in sicurezza tutta quella costa che sempre da sempre franava e diciamo che adesso dovrebbe essere in sicurezza, la nostra paura è sempre stata il fatto che siccome quella è una dorsale che viene usata molto dai ciclamatori, basta veramente che cada un sasso e ci creava problemi e quindi là siamo riusciti a sistemare tutto un cartamento, una diatriba con i privati per poter diventare proprietari della costa su cui sono stati fatti i lavori e l'abbiamo sistemata, l'abbiamo messa in sicurezza, adesso ci manca l'asfaltatura che faremo, credo nei prossimi mesi, a breve, faremo anche quella e poi siamo a posto, anche quella è stata messa in sicurezza. Questi sono poi interventi che influiscono anche sulla quotidianità di chi vive in quella zona e migliorando anche la sicurezza. A proposito di vivibilità e a proposito di vivere, a Sospirolo avete in mente un progetto per aumentare il numero di appartamenti in affitto, c'è questa possibilità? Sì, stiamo valutando, allora noi abbiamo un vecchio stabile che è lo stabile dell'Execca che è lì chiuso, abbiamo provato a vedere se si poteva alienare in qualche maniera. è difficile adesso vendere per vari motivi, sappiamo com'è il mercato immobiliare e allora stiamo adesso valutando che cosa fare se riconvertirlo a questo punto, cioè cercare di risistemarlo e renderlo accessibile a famiglie, dandolo in affitto o quant'altro. A Sospirolo ci sono casi in vendita ma non ci sono appartamenti in affitto, quindi io immagino che uno dei pochi lati positivi del Covid sia l'aver rivalorizzato le periferie rispetto al centro, perché chi stava in periferia fosse un pezzo di terra su cui rimanere ce l'aveva, chi stava in un appartamento al settimo piano penso abbia avuto il suo gran disagio in questi mesi e sono convinto quindi che ci sia stata una rivalutazione della periferia e quindi dobbiamo cercare di migliorare l'offerta sia dal punto di vista della residenza, dell'acquisto sia anche dal punto di vista dell'affitto e poi vedremo, mi auguro che ci sia una risposta per tenere alto il numero di residenti quantomeno. Abbiamo visto quindi vivibilità del territorio, sicurezza, lavoro, insomma moltissimi i temi che riguardano Sospirolo, uno dei tanti piccoli comuni della nostra provincia, piccoli comuni che però hanno come abbiamo visto anche grandi progetti. Il nostro tempo a disposizione è terminato, salutiamo e ringraziamo quindi il sindaco di Sospirolo Mario De Bon. Grazie a voi e buona serata. Con questo è tutto, quindi buona serata.